23 febbraio 2016. La polizia scientifica entra nel villino degli orrori di Noventa Padovana alla ricerca di tracce che portino a qualche indizio sulla morte di Isabella Noventa, scomparsa un mese prima, tra il 15 e il 16 gennaio di quell'anno. Gli agenti perlustrano la famosa cucina dell'abitazione di Freddy Sorgato, dove stando al racconto fatto dalla tabaccaia veneziana Manuela Cacco, Isabella sarebbe stata uccisa. Dai cassetti vengono estratti numerosi sacchetti, grandi sacchi neri che potrebbero essere stati utilizzati per trasportarne il corpo, altri sacchetti più piccoli. Manuela Cacco, nella sua deposizione, raccontava che Deborah Sorgato le aveva riferito che proprio un sacchetto di nylon era stato stretto intorno al collo della segretaria del Bignasego per evitare spargimenti di sangue quando l'hanno colpita con un martello. Come si sa, dalla perquisizione non emergerà nessuna traccia di sangue, non un capello, niente. Tutto perfettamente ordinato e pulito, come si vede anche da queste immagini oggi diffuse dalla polizia. Ogni cosa è ben riposta nei cassetti, nelle credenze ed anche nel frigorifero, dove tutto sembra sistemato con cura. C'è anche una sorta di registro con delle fitte annotazioni, immagini che sembrano ancora più inquietanti a pochi giorni dalla pubblicazione delle motivazioni della sentenza che ha condannato i fratelli Sorgato a 30 anni di carcere e a 16 anni e 10 mesi Manuela Cacco. Sarebbe stata Deborah, infatti, a ideare il piano omicida, gelosa della relazione tra Isabella e fratello o forse mossa da motivi economici. Ma la verità rimane lontana. In queste settimane gli investigatori sono tornati in un casolare della famiglia Sorgato con i cali molecolari alla ricerca del suo corpo. Hanno sequestrato dei sacchi di calce che potrebbero essere stati usati per occultare il cadavere della donna, di cui ancora non si trova traccia.